buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di calendario posturale oggi lavoreremo un po di allungamento e mobilità della muscolatura delle dita quello che andremo a fare sarà prendere un piede nel mio caso il destro e inserire tra le dita del piede destro le dita della mano sinistra le posso inserire da sotto come da sopra da sotto diciamo è un pochino più facile e funzionale nulla mi vieta inserirle da sopra allora inserisco nello spazio tra le dita dei piedi le dita della mano ora le nostre dita sono un pochino più piccole all'inizio dove c'è l'unghia e un pochino più tozze diciamo si verso la base dove si congiungono alla mano quindi posso scegliere anche un po il mio livello di difficoltà diciamo si inserendo la prima la seconda la terza falange in base alle possibilità anche dei miei piedi con l'altra mano mi vado a sistemare un po le dita e una volta che avrò sistemato le dita delle mani nelle dita dei piedi incomincio piano piano senza forzare a portarle su e giù a fletterle ed estenderle piano piano la mano destra può bloccare un po la caviglia così che io non vado a muovere la caviglia ma vado a muovere le articolazioni delle dita non vado a forzare ci sta che qualche fastidio dolore lo possa avvertire senza però arrivare a forzare un po su e giù posso anche fare un po di cerchi un po in un senso e un po nell'altro e poi posso continuare a muovere su e giù e continuo magari alternare un po la flessione l'estensione a un po di movimenti circolari e stop piano piano sciogliamo il piede destro e lo facciamo anche sul sinistro inserisco le dita della mano nelle dita del piede le sistemo e incomincio di nuovo a flettere ed estendere un po le dita a fare un po di cerchi cerco di tenere quanto più bloccata possibile la caviglia con l'altra mano non è importante ovviamente la precisione del movimento cerco di portare un po movimento nelle dita in quanti più modi possibili posso anche fare magari dei movimenti un po strani intermedi tra la flessione l'estensione le rotazioni e stop sciolgo piano piano il piede sinistro e lo andiamo a rifare un'altra volta con il destro andiamo a inserire dunque le dita delle mani nelle dita del piede inseriamo bene si blocca la caviglia destra con la mano destra e si inizia a muovere passivamente le dita del piede destro grazie alla mano sinistra e abbiamo detto possiamo andare un po su e giù possiamo fare un po di cerchi continuiamo a portare un po di movimento nell'articolazione delle dita del piede grazie a tutti grazie a tutti e stop piano piano si scioglie e lo facciamo per l'ultima volta con il piede sinistro inseriamo le dita della mano destra sistemiamo bene le varie dita e di nuovo si riparte blocco la caviglia sinistra e incomincio a mobilizzare un po su e giù le dita o a fare dei cerchi o delle forme un po strane grazie a tutti ed anche questo piede lo possiamo piano piano lasciare in pace anche per oggi la lezione è terminata noi invece ci diamo appuntamento a domani per una nuova lezione grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!